Non si sono fatti attendere le reazioni allo striscione antisemita apparso nelle prime ore del mattino sulla strada che porta all'Istituto Agrario di Cerignola. Il sindaco Franco Metta ha intervenuto con una nota stampa agli organi di informazione. Grave intolleranza razziale, dice il sindaco. L'intera amministrazione comunale mi compreso con danno a un avvento il grave gesto di intolleranza razziale. Assurdo paragonare quanto accaduto in Germania con il nome di Cerignola. Si tratta di episodi che non appartengono alla cultura ospitali di questa città e devono essere stigmatizzati come comportamenti ignobili ed incivili. Anche il segretario del PD, Tommaso Sgarro, in una dichiarazione rilasciata alla notizia web.it, dice Si tratta di pericolosi rigurgiti neofascisti che dimostrano anche ignoranza sul tema. Mi auguro che si provveda alla rimozione immediata, come è avvenuto.